Allora siamo tornati con Domenico Pettinari in Pescara, in via Rigopiano, zona anche Passo della Portella, dove siamo stati anche tante altre volte con tante conferenze stampa qui per segnalare non solo le occupazioni abusive di alloggi ma anche gli allacci abusivi delle utenze. C'è un passo avanti su questa vicenda, vogliamo spiegare qual è? Sì, intanto abbiamo denunciato che qui oltre allo spaccio di droga ci sono allacci abusivi, occupazioni abusive, furti di energia elettrica, gas e acqua, l'abbiamo documentati noi, censiti noi, andando sui contatori e fotografando, anche mettendoci a rischio, rischiando. Ora cosa accade? Che io faccio decine e decine di segnalazioni chiedendo all'ATER e al Comune di andare a censire, a verificare questi allacci abusivi che hanno comportato anche bollette di 4, 5, 6 mila euro per i cittadini onesti che sono chiamati a pagare per loro e per i delinquenti che non pagano. L'ATER a seguito delle mie richieste ha scritto ben 5 lettere, 4 barra 5 lettere al Comune chiedendo l'ausilio della forza, della polizia locale per andare a censire, a verificare queste utenze. Sono passati mesi, mesi, mesi e mesi e lo dice l'ATER, lo scrive l'ATER perché mi risponde dicendo che tutte queste note sono rimaste in evase da parte del Comune. Quindi il centro-destra che governa questa città, la Regione e il Governo centrale fa solo propaganda sulla sicurezza perché poi ha la conta dei fatti quando gli si chiede di andare sul posto per ristabilire legalità perché si tratta di venire qua a censire, ristabilire legalità e cacciare, fare provvedimenti di decadenza per tutti coloro che non sono in regola. Ne parla bene la legge 96, barra 96 che dice che chi si allaccia abusivamente, utilizza l'alloggio per all'attività illecita, spaccia droga, fa cose che non deve fare, deve essere sfrattato, cacciato via dalle case bocua. Noi non riusciamo ancora a far attivare queste procedure. Spieghiamo che queste lettere, come ha risposto l'ATER, sono protocollate, quindi sono lettere a cui comunque l'ente di riferimento deve dare risposta, risposta che non è ancora arrivata, ma nel caso in cui arrivasse poi non è finita lì. Certo, perché una volta fatto il censimento poi bisogna eventualmente denunciare l'autorità giudiziaria tutto ciò che è illegale, quindi eventuali allacci abusivi, eventuali occupazioni abusive. Poi parte un ITER lunghissimo che si chiama la cosiddetta procedura finalizzata alla decadenza, quindi c'è bisogno poi di attendere magari un altro anno, un anno e mezzo, ma semmai vengono a fare questo censimento. Io mi sto sgolando a dire venite, portate la polizia locale, ma lo deve fare naturalmente il sindaco che deve dare l'impulso per fare in modo che si ristabilisca legalità. Io sono amareggiato, mi auguro che a seguito di questa nostra denuncia pubblica le situazioni si risolvono perché i cittadini onesti qui non ce la fanno più. Tra l'altro è sporco, è pieno di immondizia, hanno sfalciato l'erba e non l'hanno portato via, non hanno pulito, anche la bonifica del territorio andrebbe fatta una bonifica importante ed imponente. Noi ci siamo e continueremo a esserci.